Sì, partite questa prima batteria di questa finale, Piondano e Red Deck, su un progetto di gara, Piondano e Red Deck, su un progetto di gara, Piondano e Red Deck, su un progetto di gara, Piondano e Red Deck, su un progetto di gara, Piondano e Red Deck, su un progetto di gara, Piondano e Red Deck, su un progetto di gara, Piondano e Red Deck, su un progetto di gara, Piondano e Red Deck, su un progetto di gara, Piondano e Red Deck, su un progetto di gara, Piondano e Red Deck Grazie! Grazie!